Ciao a tutti, comunico che c'è un bando per una borsa di studio Fulbright Roberto Worth per l'anno accademico 2017-2018 che dà la possibilità agli studenti universitari italiani, sordi o udenti, di specializzarsi per nove mesi in America nelle competenze per supportare i bambini sordi e sordo ciechi. I requisiti sono conoscenza della lingua italiana dei segni, LIS, dei segni americana, ASL e dell'inglese. Candidature entro il 28 febbraio. Maggiori informazioni su caps.it o fulbright.it. Grazie a tutti.